musica 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 che è una staffetta dove stiamo andando? insomma domandare a lei ci do rispondere a cortesì al tribunale stiamo andando a che cosa? non te neanche toccato? mi è stretto tanto che le unghie mi sono diventate nere nere, vai veramente non si può andare davanti dietro sto male mi viene da vomitare alla prima curva sono in idrante giura? non è che lo dico vieni davanti così ti controllo anche meglio e tra l'altro avrei potuto strangolarla da dietro dico avrei potuto a proposito non si potrebbe liberarmi dalle manette è che siamo in vacanza premio eh non adesso dopo perché non la vedeva nessuno saluto comunque se non sei la strada possiamo anche fermarci a chiedere un bar perché possiamo fare tutto il peripleo di Milano perché non sei la strada? la so la strada mi sembrerebbe comunque adesso tu te ne stai buono buono zitto zitto va bene? mamma solo tenne la tua canzone amici si sta ammazzando di noia però un po' di raga almeno tipo signorino? tipo radio super denso oppure 105.5 senti 105.5 l'unica radio che puoi sentire qua dentro è la radio della polizia va bene? è divertimento ma che razza di via è questa qua via Maricel Proust scrittore sarai più sola dai prendimi un po' lo stradario strachè? tutto città lì nel porto oggetti dai fai qualcosa quanto ti voglio bene dai allora sto tutto città dai sbrigati fai qualcosa su allora via Maricel Proust no dai sono finiti dall'altra parte della città dai quanto ti voglio bene no bello queste parole d'amore non fare che non fare che ti dici di mettere un po' di radio? si magari lì dopo però prima metti via la pistola dai 105.5 one nation one station? si però non fare stupidate senti piuttosto dove siamo rispetto al tribunale? praticamente siamo dall'altra parte della città e rimaniamoci al più lungo possibile va bene? si anzi visto che sono innocente andiamo a farci un giretto fuori città sei d'accordo? si vedo che sei d'accordo quanto ti voglio bene avanti schiaccia il chiodo queste parole d'amore se al mattino spacchi le pietre al pomeriggio scavi le buche se al mattino si scavano le buche al pomeriggio si spaccano le pietre se al mattino se al mattino spacchi le palle la sera pure dobbiamo ammazzare a franky il culo di gomma ma che sei che retino Jake adesso lo sono tutti ah gliel'hai detta quella cosa? johnny se ti ho detto che devi andare devi andare ho capito al ma se tuo fratello come te lo devo dire? bastava dirlo l'ho detto